Ciao a tutti ragazzi sono Mangeristuraction e benvenuti in questa nuova parte della guida a Pokémon Bianco 2 Ok cominciamo col gioco, facciamo continua E la scorsa volta eravamo arrivati in questa nuova città col campione che è lì Però prima adesso devo curare i miei Pokémon Quindi questo è lì in interno di un Pokémon Market Come abbiamo visto nella parte 2 mi sembra Comunque adesso dobbiamo curare i Pokémon Cioè il Pokémon Ok Perfetto Curato Là c'è il Pokémon Market che per adesso non mi serve Spring Prima inverno, adesso ovviamente primavera Comunque Vabbè sì non ci cuisco un cavolo Poi specialmente in giapponese peggio di peggio E poi se ne va Comunque vediamo un po' in giro Prima di entrare nelle case mi guardo un po' attorno Per vedere se questa è una città dove c'è una palestra Ma mi sembra impossibile Alice e Leonardo Quindi immagino che tipo questa sarà una parte del gioco in cui noi dobbiamo seguirlo Vabbè visto che ci sono solo queste due case io direi di entrare Non ti sa mai se hanno qualcosa di importante da dirci Ok ma non credo proprio Perché sto parlando anche con questo Lilipup Boh Comunque vediamo adesso quest'altra case E poi andiamo Da Nardo Ok niente Niente E ancora sicuramente Ah no Ci ha dato pozione Bene Ok Ha citato il Team Rocket Se non mi sbaglio Sì mi sembra che l'ha citato Comunque Vediamo questo che dice No ma non penso che dice qualcosa Ok Poi allora E qui ci sono altri allenatori Cioè altre persone Non so se sono allenatori Comunque Vabbè diciamo sì Beh comunque Andiamo da Nardo E ci parlerà Adesso sarà la faccia stupita Tipo in domande Adesso è stupita Perché ha fatto il punto esclamativo Quindi È una faccia esclamativa Ok 20 Io non so cosa Scusa E io di qua non ci posso andare Ma come no C'è la lotta C'è un campo lotta lì Ehi E andiamo qua Cosa dobbiamo fare Ehi ma questo è un garage C'è una macchina E qui No niente Quindi proseguiamo per questo percorso Ci saranno Mi sa che questo è un percorso Pieno di allenatori Perché lì già quello là Si ha aspettato che noi ci passiamo davanti Va bene Accettiamo la sfida Intanto da notare Che io non ho ancora Catturato il secondo pokemon Ma vorrei che fosse un pdav Se in questo caso Mi interesserà un pokemon Diverso dal pdav Tornerò indietro Per catturare appunto Un altro pdav Ma non credo Perché ancora qui siamo All'inizio Come potete vedere Ha un Non mi ricordo come si chiama Fail Ha un Patrat Livello 4 Quindi diciamo Questo ricorda Proprio l'inizio Del gioco In effetti Il nostro snivey Non è che è poi Così difficile da battere Cioè così difficile da Non battere Perché è livello 7 Insomma Ok ma questo call Potrebbe essere l'ultimo Se noi facciamo Azione Vediamo Bene 41 punti esperienze Stiamo a livello 8 Abbiamo vinto anche questa Lotta contro questo Bullo Si sembra che sia un Bullo Ok Abbiamo vinto anche 64 poche soldi Proseguiamo Vediamo Questo allenatore Vediamo se lì posso Catturare il mio Prossimo pokemon In quell'erba E poi lì c'è anche Una pokemon Se non l'avete vista Ok questa è un'altra Un'altra pokemon Forse è una pupa Boh Comunque Ha questo Scusate se non mi ricordo Il nome ragazzi Il bello è che Fino a poco tempo fa Li sapevo Me li ricordavo Ora non mi ricordo Più niente Comunque Penso che Un altro colpo Dovrebbe bastare Per rimetterlo K.O E abbiamo finito Anche questa lotta No non è bastato Forse perché C'è diminuito Troppo l'attacco Però lui Leia Anzi Non ci fa niente Perché appunto C'è tolto 2 O un PS Quindi Insomma La nostra difesa È alta Contro questo pokemon Ok Vincendo 64 poche soldi Adesso Dirigiamoci qua Vediamo questa Mi ha preso qualcosa Che non so cosa Perché era scritto in Giapponese Ok Facciamo finta Di non aver visto Questo dannatore Che ci aspettava E sfidiamolo Pratico questa parte Sarà incentrata Sul Sfidare I Gli allenatori Per far aumentare Il mio snive Almeno fino al livello 10 E poi Incentrata anche Per Nel catturare Qualche Pokemon Che mi potrebbe interessare Notare che Ha battuto molti pokemon Di fila Però Non è ancora gialla La vita di snive Anzi Gli pokemon Li fanno proprio niente Quindi è una difesa speciale Molto 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 alta Bene Vediamo un po' Ecco Vediamo che cosa Che pokemon ci sono Eh Patrat Subito Fuga Oppure no Vediamo Siccome Mi manca poco Per salire Lo batto Così Almeno salgo Di livello Guardate ragazzi Tolcono pochissimo Questi pokemon Selvatici Ma anche pokemon Negli inanitori Dopodutto Ok Se ricevo un'esperienza Ci servono per salire di livello Vediamo la nostra difesa speciale Che non si capisce veramente qual è Ma grazie al cazzo Ok Se buttiamo di qua No Ci possiamo buttare Allora dobbiamo per forza Continuare di qua E quindi salendo E comparsa Un nome Qualcosa Per Qualche nome del luogo Ma Non abbiamo capito Ok Qua ci sono Dei fiori Non credo che si possano trovare Pokemon selvatici In questi fiori Ma Qui si Chissà che pokemon Che pokemon Ci sono Questo Questa erba Sembra qualcosa Un merip Abbastanza strano Vediamo Battiamolo No Con azione Ora mi paralizza Cos'è Mi ha paralizzato Si mi ha paralizzato Madonna Mononcio Scappiamo Sono È forte Cavolo Però non mi serve Questo merip Oppure si Dipende C'è proprio Pensato Ok però Di sicuro Femmina Non mi serve Merip Mi serve maschio Quindi ora Come avete voluto capire Cerco di catturare Un merip Perché un pokemon Di tipo Elettro Come lui Mi serve Ok Vediamo questo merip Com'è Ok maschio Livello 5 A posto Lo devo catturare Quindi siamo frustata Anche se non è molto efficace Con i pokemon Di tipo Elettro Di nuovo No Maledetta paralisi Di nuovo Dai Dai Ok adesso Adesso dovrei poter Catturare Questo merip Pokeball Abbiamo 11 Pokeball Dovrebbe bastarne Almeno una Vediamo E vai E vai Ce l'abbiamo fatta Abbiamo catturato Merip E noi ragazzi Ci diamo Appuntamento Alla prossima puntata Dove esploreremo Ancora di più Questa zona Non diamo un soprannome A merip Dove esploreremo ancora di più Questa zona E voi andando commentate Potete riscrivervi Un pollice in su Per la cattura Di merip E cercherò di catturare Altri pokemon Che vi potrebbero Servire Nella mia avventura Ciao a tutti E Bon Wa Yash